Apprezzo e sostengo la campagna di crowdfunding lanciata da Vicky Mafia, la libera enciclopedia sulle mafie. Ringrazio molto, dando alla Chiesa per l'affettuosa nomination. Ritengo utile e necessaria la mapportura dei saperi sulla mafia, perché lo raccontare storie aiuta a fare memoria e a prepararci per il futuro. In questo tempo di confusione, tra camorra, mafia, in questo tempo di soffocante presenza di capitali sporchi che si presentano convolti, che presumono di essere puliti. Quindi invito tutti ad effettuare donazioni su www.vicimafia.it Nomino a mia volta tre persone che insieme a noi hanno vissuto quel cammino di riscossa civile che ha caratterizzato la storia di Palermo e che vogliamo che caratterigi l'intera storia nazionale. Sono Attilio Bolzoni, Salvatore Borsellino e Vincenzo Agostino.